Mirko Loiacono, 26 anni, è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio e accusato di avere avuto un ruolo nella sparatoria avvenuta nel marzo del 2021 nel quartiere Zenne di Palermo tra le vie Patti e De Gobbis. Quella fu l'ennesima puntata della faida tra due famiglie, i Maranzano da una parte e i Colombo dall'altra. Il giorno della sparatoria il gruppo dei Maranzano si presentò a bordo di cinque automobili e alcuni scooter e aprì il fuoco ferendo a colpi di pistola Giuseppe Antonio Colombo. Per quell'agguato lo scorso mese di luglio sono stati condannati Letterio Maranzano a 12 anni di reclusione, Pietro Maranzano, Vincenzo Maranzano e Nicolò Cefali a 10 anni e Giovanni Cefali a 11 anni. Le indagini però non si sono mai fermate, gli investigatori erano alla ricerca di altri protagonisti della sparatoria e dopo accurate ricerche nei sistemi di videosorveglianza ritengono di aver individuato in Mirko Loiacono un altro partecipante attivo all'agguato.